Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi porto con me a vedere un presepe perché questo presepe ha una particolarità. Lo sfondo è stato fatto, disegnato e colorato interamente da mia mamma. Quindi mia mamma quest'anno ha partecipato diciamo all'allestimento del presepe creando questo sfondo. Si tratta di un paesaggio tipicamente genovese da mettere proprio come sfondo quindi dietro le statuine del presepe ed è stato allestito appunto nella chiesa e io insomma volevo condividerlo con voi quindi adesso andiamo insieme a vedere questo presepe con lo sfondo fatto da mia mamma. È una cosa molto particolare quindi mi faceva molto piacere portarla sul canale quindi andiamo insieme. Noelle Noelle All the angel did say was to certain poor shepherds In fields as they lay, in fields where they lay Keeping their sheep on a cold winter's night That was so deep, Noel, 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 Noel Born is the King of Israel They looked up and saw a star Shining in the east, beyond them far And to the earth it gave great light And so it continued both day and night Noel, 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 Noel Born is the King of Israel We watched the presepe We watched the sfondo made by my mother It was a particular thing, for me it is Because knowing that my mother made the sfondo In the presepe of the church is something That's what I really do every day So it was a very nice thing So I wanted to share it I hope you liked it If you like it, if it's like it I invite you to subscribe to the channel If you haven't done it, I give you a big hug And I'll see you in the next video 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 Grazie a tutti